perché chi è stato presente domenica al campo avete fatto veramente qualcosa di eccezionale bellissima capire spero che continui questa cosa qui detto questo ci tengo a dirvi che anche se magari mi vedete poco presente al campo nel dato della settimana io vi seguo tutti e sono informato soprattutto di tutti perché poi mi sento praticamente giornalmente un po' con i vostri mister che fanno il punto della situazione e ci tengo a dire che questa società ci deve molto al settore giovanile e a tutta la scuola calcio perché l'intento è quello di fare in modo che il settore giovanile torni ad essere quel servatoio che era tanti e tanti anni fa per la prima squadra cioè noi vorremmo avere dei calciatori doc nel senso che fanno tutta la trafile da noi dai primi calci alla prima squadra in modo anche per portare quel senso di appartenenza ai nostri colori di rappresentare il paese questo è quello che voglio anche per voi speriamo insomma per il resto avete i grandi mister mister Gabriele mister Gabriele che ha l'esperienza che fa paura insomma e poi a volte anche lui in campo sbaglia un laboratorio del progetto quindi io vi dico approfittatene, approfittatene tutti perché non tutti ce l'hanno delle persone così e non mollate mai non mollate mai